Francesco Zampano, finalmente si è rincominciato, il ritiro di Palena volge al termine, le prime sensazioni di questa nuova stagione? Siamo un gruppo giovane, siamo molto carichi per quest'annata, sono arrivati alcuni giocatori come Cristante e altri giocatori molto importanti anche se giovani e ce la metteremo tutta per cercare di arrivare alla prima di campionato, comunque carichi e motivati. Cosa manca a questo Pescara per essere veramente competitivo? Non so, comunque penso arriveranno nuovi giocatori, giocatori importanti, anche se adesso siamo un gruppo, anche se giovane, molto forte, sempre da dimostrare, però siamo un gruppo affiatato. Il sorteggio del calendario non è stato particolarmente benevolo nelle prime cinque partite, quantomeno, che score di punti potrebbe essere soddisfacente per questo Pescara? Non lo so, sono sicuramente partite difficili, ma come tutte le altre partite non è che in sera vecchia una squadra come il Chievo ad esempio ed è facile, quindi cerchiamo comunque di vedere partita dopo partita e sempre allenandoci a mille e vedremo che comunque i risultati arriveranno. Se scenderemo in campo con concentrazione, voglio dimostrare per noi e anche per i tifosi. Concludiamo sul mercato, Zampano è uno dei nomi meno chiacchierati di quest'estate, possiamo tranquillizzare definitivamente i tifosi biancazzurri oppure la quiete prima della tempesta? No, scherzo. Io sono del Pescara, penso a giocare qua, a fare un buon campionato, anzi fare un gran campionato non io ma anche come squadra e poi si vedrà.